qual è il tuo piatto preferito non dico mai di no per un cordoblue con patatine fritte c'è anche sempre l'insalata con le patate che fa la mamma qual è la cosa che ti ripete più spesso il coach come ti senti ultimamente se non avessi fatto il giocatore di hockey che lavoro avresti fatto non lo so non so dirti magari avrei invitato qualcosa che così utile nel tempo libero cosa ti piace fare giocare un po a fifa con il mio miglior amico però giochiamo nel facetime più una chiacchierata come come fanno le donne qual è il momento più bello della tua carriera vivo ancora un po intanto sto sognando di questi playoff che abbiamo fatto qua a lugano ogni tanto soffro ancora che non abbiamo potuto portare dopo alla fine lì la coppa quello veramente manca dopo chiaro stessa cosa un po anche mondiali 2013 a che età e dove ha iniziato a giocare a hockey avevo 4 5 anni era a vorb questo vicino a basilea la squadra li si chiamava chi è il più intelligente più intelligente ma adesso devo pensare chi è il tuo compagno di squadra più forte il calvin turco veramente con la sua massa un bel toro su ghiaccio chi passa più tempo davanti allo specchio per lucas che è arrivato sempre sempre bel pettinato potrebbe essere un candidato grazie a tutti